Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! A Risolto Giallo! Salve a tutti, bentornati a Risolto Giallo, nuova puntata eccezionalmente gemellata con la rubrica Lex and Love perché l'ospite di oggi merita questa doppia funzione. Vi presento Mauro Grimoldi, buongiorno. Buongiorno, grazie. Mauro e io siamo amici da tantissimi anni, però non mi voglio privare del piacere di farlo autopresentare. Io di te non dico nulla. Va bene, allora mi lasci una grande responsabilità. Allora, io sono uno psicologo, sono uno psicologo giuridico, cioè da sempre mi occupo di quella area un po' di confine che sta tra la legge e la psicologia e in particolar modo per una grande parte della mia vita mi sono occupato di crimini minorili, cioè ho lavorato con ragazzi che commettevano reati e in particolare appunto quasi vent'anni della mia vita professionale all'inizio proprio sono stato coinvolto in questa esperienza, dalla quale in un primo momento non mi aspettavo tutto quello che mi ha poi dato. Ma fu casuale o cercata? Fu casuale, come spesso accade nelle cose della vita. Mi occupavo di adolescenti, mi occupavo di adolescenti. In quel periodo all'inizio della mia vita professionale avevo una grande passione in particolare per i disturbi dell'alimentazione, quindi per l'adolescenza, per la crisi al femminile e come a volte accade, anche è stata una cosa un po' cinematografica per certi versi, ti offrono quei posti che nessuno vuole, molto mal pagato. Ma perché non lo voleva nessuno? Non lo voleva nessuno perché era un posto lontano dalla grande città di Milano, era un pochino più remoto. Una frontiera insomma. Era un po' una piccola frontiera, sì. Era un servizio sociale che si situava all'interno del Tribunale Penale per i minorenni di Brescia, quindi si trattava di fare una piccola trasferta. Però il Ministero, diciamo, in quel periodo aveva, come anche adesso in verità, non ha molto riconoscimento per questo tipo di ruoli, quindi si trattava di fare un po' di strada e si trattava di un lavoro che non era quello di cui io in quel momento mi aspettavo, né in quella fase della mia vita io avevo un grande desiderio di fare la clinica. Quindi è una cosa un pochino diversa, la psicologia giuridica, la psicologia forense, l'idea anche che avrei avuto a che fare con dei ragazzi molto aggressivi, quindi che sarebbe stato un lavoro difficile. Parliamo di che anni? Parliamo del fine degli anni 90. Un periodo caldo in quella zona. Sì, periodo molto caldo in quella zona. Quindi è un momento complicato, però è stata in verità un'esperienza straordinaria, sono rimasto lì vent'anni, non per caso, ma per scelta, per scelta che ho rinnovato più volte, trovando in quel lavoro una passione straordinaria, che è germogliata. E che trasmetti molto bene, facciamo vedere che cosa ne è nato da tutto questo. Dieci lezioni sul male, i crimini degli adolescenti. Grazie. Avete capito perché è qui? È qui, Mauro, è qui perché questa può diventare tranquillamente, lo dico non per piageria, non per amicizia, ma perché lo spirito critico chiaramente non viene abdicato quando si legge l'opera di un amico. Questa può essere per gli scrittori che vogliano affrontare il tema della delinquenza, della devianza minorile, un'ottima guida per comprendere, meglio con l'occhio dell'esperto, certe dinamiche che ai più sono non soltanto incomprensibili, ma addirittura possono creare avversione nei confronti del minore e del sistema che non lo pulisce. Questo libro è un libro molto riflettuto, questo lo si percepisce benissimo, ma è un libro scritto da un entusiasta della materia e anche questo si percepisce. Da che cosa nasce questo tuo approccio ancora così empatico, ancora così pieno di gioia nei confronti della materia che dopo vent'anni potrebbe anche averti un pochino disilluso? No, no, per nulla, per nulla disilluso. Anzi, il vedere, ciò che motiva chi fa il mio lavoro è vedere come questi ragazzi, in un tempo estremamente breve rispetto a quello a cui noi psicologi, soprattutto gli psicoterapeuti, sono abituati. Di solito noi ci diamo un tempo di anni per vedere una modificazione. Ecco, gli adolescenti, quando tu riesci a trovare la ricetta giusta per risolvere quella che è una patologia, perché quando c'è qualcosa che non funziona nel rapporto tra il singolo e il sociale, quel contratto che dovrebbe funzionare nel rapporto che esiste tra i propri desideri e il mondo che ti circonda, non funziona più, quella roba si può risolvere. E quando si risolve, cioè quando cogli nel segno la ricetta giusta, allora in un tempo molto breve, cioè un tempo di pochi mesi, tu vedi questi ragazzi che si modificano nell'aspetto. Cioè alcuni non li riconosci, li ritrovi dopo settimane, dopo pochi mesi e sono delle altre persone. Ecco, questo ti rimane appiccicato alla pelle. Ecco perché alla fine poi ti ritrovi con queste storie che si sono sedimentate nel tempo e nel momento del Covid, perché questo libro nasce lì, nasce nel momento del lockdown, pensi a tutte quelle, in un momento di pausa, quindi dalla vita, dal tran tran quotidiano, pensi a quelle storie che sono rimaste lì nei cassetti e hai voglia di parlarne, di discuterne lì. È nata la prima edizione delle Dieci lezioni sul male che è stata online. Le lezioni sono quelle loro, sono quelle degli adolescenti, non sono le mie, non sono io che faccio lezioni, ma sono loro che attraverso le loro storie ci insegnano dei punti chiave che riguardano le motivazioni per cui si sono trovati lì e che cosa se ne fanno questi ragazzi dei loro reati. Notate la similitudine tra la sospensione del tempo che tutti noi abbiamo vissuto durante il lockdown e la sospensione del procedimento minorile commessa alla prova. Questo è assolutamente straordinario ed effettivamente, come tu spieghi benissimo, quello è proprio un momento che serve a sospendere il tempo, congelarlo tra il reato e il processo per capire, per far capire meglio agli operatori che cosa il reato l'abbia determinato. Allora io seguirei, in favore del nostro pubblico che è più abituato a sentire parlare di crimini che di motivazioni, seguirei un po' una partizione per delictum. Tu ti occupi di vari reati, ma principalmente direi che ne segui quattro. Il furto, comunque reati appropriativi, lo spaccio di stupefacenti, i reati sessuali e gli omicidi. Stiamo parlando di delitti commessi dai giovani. Anzitutto diamo al nostro pubblico un'indicazione di massima che per noi giuristi è assolutamente scontata, ma che non tutti hanno. Parliamo di imputabilità. Imputabilità in Italia si stabilisce sulla base, ovviamente, di una ripartizione che è decisa a priori tra i 14 e i 18 anni. Sotto i 14 anni si considera che un soggetto non abbia quella capacità per avere una distinzione precisa tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e quindi il soggetto è strutturalmente considerato non imputabile. Dai 14 ai 18 l'imputabilità è presunta, ma tu sei un avvocato, a lei si è assorgato, quindi io sono un po' il spero di non dire delle cose scorrette e di non dirle con un linguaggio inappropriato. Sono sicuramente un po' naif rispetto a te. Borderline. Borderline. Tra i 14 e i 18 l'imputabilità è presunta, cioè si considera che un soggetto dovrebbe essere in grado, ovviamente la cosa può essere messa in discussione perché abbiamo dei minori che anche se hanno già compiuto 14 anni però non hanno ancora quella maturità e quelle categorie tali da poter interpretare correttamente il fatto reato, oltre i 18 anni si viene giudicati dalla legge ordinaria. Ti faccio una domanda perché sento che arriva dal pubblico un allarme. E se il crimine lo commette un 13enne? Se il crimine lo commette il 13enne viene comunque segnalato, c'è comunque un intervento dell'autorità giudiziaria che però ha un'altra forma rispetto a quella di cui mi sono occupato io. Non è propriamente un'imputabilità di tipo penale, però comunque il sistema giudiziario ha degli strumenti per intervenire che sono degli strumenti diversi. Quindi in ogni caso si fa una segnalazione. Quindi per tutti coloro che purtroppo per avventura siano incappati con le figlie, con le nipoti, le figlie delle amiche in fatti specie che soprattutto dal punto di vista digitale stanno conoscendo una grande anticipazione nella età anagrafica degli autori, non preoccupatevi, non rimangono totalmente sforniti di tutela e di appoggio le vittime, né tantomeno sforniti di aiuto gli autori, perché di questo stiamo parlando. In quel tribunale, quello dei minori, si cerca soprattutto di aiutare e di aiutare a prevenire un contatto con la delinquenza che può incistarsi, se vogliamo dirlo in modo prosaico, e poi diventare il crimine dell'adulto. Tra i reati di cui tu tratti, io so che il nostro pubblico sarà attratto soprattutto dagli ultimi due, reati sessuali e omicidi, ma dal mio punto di vista la parte che mi è piaciuta di più e che mi ha affascinato è proprio quella dei reati appropriativi. Mi ha veramente aperto delle sinapsi che non avevo ancora azionato, ma che sfrutterò, ti citerò, sappilo, non soltanto per i reati dei minorenni, anche per i maggiori. Qual è la dimensione, secondo il criminologo, il psicologo forense, la dimensione, il punto di contatto tra un oggetto altrui e il desiderio di appropriarsene? Allora, intanto, se posso permettermi, tu prima hai detto una cosa importantissima. Io vorrei su questo essere abbastanza chiaro con chi ci segue. Allora, la scelta che è stata fatta, in particolare in Italia, col DPR 448, che è proprio la legge che regolamenta il penale minorile, è quella di rinunciare in parte alla restituzione del male che è stato fatto, cioè a quella sorta di legge del taglione, che però è ben simbolizzata dal simbolo della bilancia che noi troviamo su ogni tribunale, la giustizia. Tanto hai fatto e tanto noi quantifichiamo la pena che ti viene combinata. Nel caso dei minorenni a quest'operazione si rinuncia in parte. Tanto è vero che, dico una cosa, che può essere dirompente per chi magari non è del settore, cioè su cento ragazzi che in Italia commettono un reato tra i 14 e i 18 anni, uno è in carcere. Uno. Questo che cosa significa? Due cose. La prima è che noi facciamo una scommessa. Perché? Non per essere buoni nei confronti dei minori che commettono reati. Non vogliamo essere buoni, per nulla. Ma ci costa troppo. Un ragazzo che ha 14 anni commette un reato è un soggetto che ha un'ottima probabilità di continuare a farlo per tutta la sua vita. E noi quel ragazzo lo possiamo incontrare. Possiamo aver parcheggiato la nostra auto vicino al luogo dove passa. Possiamo transitare una sera in un vicolo buio dove lui transita magari in un momento in cui ha bisogno di soldi. Possiamo ritirare dal banco ma magari dietro c'è lui. Questo per tutta la vita. Ci costa troppo. Allora la scommessa che facciamo ed è la scommessa del DPR 448 è quello di fare di tutto per recuperarlo. E quello che mi dispiace, Alessia, fammelo dire in questo contesto perché ci tengo moltissimo, è che la legge è ottima, non così eccezionali sono gli strumenti che ci mettono a disposizione per realizzare quegli obiettivi. Ma parliamo di risorso? Parliamo proprio di cassetta degli attrezzi? Parliamo di cassetta degli attrezzi, parliamo della legge, parliamo delle risorse, parliamo di quello che ci serve per mettere in atto un processo di questo tipo. Cioè 99 ragazzi su 100 che sono fuori significa che io non posso lasciarli liberi semplicemente così. Io devo pensare che questi ragazzi siano seguiti, che sia stata fatta una valutazione corretta, che il vestito che indossano dal punto di vista delle attività che svolgono e di come loro sono osservati, non solo dai carabinieri, dalla polizia, dalle forze di sicurezza, ma anche dai servizi sociali che se ne occupano, deve essere una risorsa eccellente perché devo essere certo che quei ragazzi anche oggi non si ritrovino a commettere altre azioni trasgressive. Se io ho un ragazzo che commette un... Mi chiedi del furto? Sì, è quello che mi ha più affascinato. Se io ho un ragazzo che commette un furto o spaccia sostanze stupefacenti per acquisire risorse, per essere più ricco degli altri, essere più ricco non è mai un criterio universale. Se a noi proponessero di guadagnare mille, mille e cinquecento euro al giorno spacciando sostanze stupefacenti, probabilmente non lo faremmo né io né te. Anche se magari questo implicherebbe, diciamo, magari guadagnare un po' di più di quello che guadagniamo, forse molto di più per alcuni di quelli che guadagniamo abitualmente. Ma perché non lo facciamo? Non lo facciamo realmente perché la nostra identità è strutturata diversamente, perché abbiamo un passato, perché abbiamo delle relazioni, perché abbiamo costruito qualcosa nel corso della vita, perché abbiamo degli obiettivi. Questa roba confligge troppo con quello che noi abitualmente facciamo. Allora non dobbiamo pensare che sia un criterio oggettivo quello di dire io voglio guadagnare di più. Questo però ci dice che quel ragazzo ha una forte spinta appropriativa dovuta al fatto che per lui il denaro non è la stessa cosa che è per me o per te, ammesso che il furto sia di denaro. Il significato del denaro è un significato dal punto di vista psicologico estremamente interessante. Ma facciamo un'ipotesi e anche un esempio che c'è nel libro. Mettiamo che io scopra che questo ragazzo ha un senso di valore di sé, un'autostima molto bassa e che quindi abbia l'esigenza assoluta, imperativa di dimostrare di essere migliore degli altri e che il possesso di risorse, l'avere tanti soldi, gli permetta di realizzare questo. Quindi la sua spinta all'appropriazione è superiore a quella degli altri. In questo caso, il caso a cui sto pensando è quello di un ragazzo che mi arriva alla fine di un percorso di messa alla prova perché mi chiedono di fare una valutazione. Questo ragazzo è stato mandato per tutto il periodo della messa alla prova. Ogni giorno a fare volontariato in un canile. Apparentemente è una buona idea perché piace molto questo anche all'autorità giudiziaria perché riprende quella finalità retributiva. Cioè in qualche modo lo fa lavorare. Lui ha proseguito in un lavoro che già faceva, in questo caso l'idraulico, un ragazzo che si veste molto bene, che guadagna anche discretamente facendo il suo lavoro. Non è che gli manchino di per sé struttura, ma si annoia. La sua vita ordinaria è una vita che lui sente essere noiosa. Invece nel commettere reati lui sente di mettere in campo una grande competenza e quindi si riconosce in quella cosa, nell'essere molto ricco perché è molto bravo. L'imprenditore. L'imprenditore, bravissima. L'imprenditore di sé stesso. Questo capita con alcuni reati dove appunto il fatto quello che ricavi dal reato è molto importante. l'attività socialmente utile mandarlo al canile è un'attività che può servire quando io mi sento in colpa. Allora, se mi sento in colpa per il reato che ho commesso, io ti mando a fare una cosa buona per i cagnolini che stanno male e tu senti di fare qualcosa che ha un senso rispetto a quello che hai fatto. Ma in questo caso qual è il senso? La risposta reale è che non c'è un senso. E qual è il risultato? Il risultato è che questo ragazzo qui aveva per un anno rispettato tutto quello che gli era stato chiesto di fare. Ogni giorno era andato al canile ma è così che me lo figuro al canile lui teneva secondo me sempre acceso un telefonino con un piccolo microfono inserito nell'orecchio con cui si teneva in contatto con i suoi fornitori di sostanza stupefacente o con le persone che collaboravano con lui alla commissione di furti di altri tipi di reato e anche per individuare le vittime Era riuscito a strumentalizzare l'attività socialmente utile e farne l'ufficio Ma perché? Ma perché Alessia? Perché era sbagliato? Allora quando dico il sistema deve mettere in grado chi se ne occupa di fare questo lavoro la valutazione perché non è stata fatta? Perché non è stato fatto un abito su misura di questo ragazzo? Cosa si deve fare di fronte a un ragazzo che commette furti o spaccio di sostanze stupefacenti sulla base di un bisogno proprio profondo di avere di più degli altri? Beh per esempio sicuramente io lo devo mettere al centro per esempio lo posso portare in una scuola a presentare il proprio caso Tu parli di un ragazzo con cui hai fatto proprio questo? Sì un ragazzo che veniva con te nelle aule e tra l'altro ne usciva sempre con i bigliettini delle ragazzine vedo che te lo ricordi questo è il piacione della situazione io ti faccio vedere che ore sono e ti chiedo abbiamo ancora un po' di te o ti rinvito un'altra volta? Ma facciamo che allora oggi io sono un po' incastrato tra diverse cose lo rinvito perché siamo soltanto all'inizio torno volentieri torno volentieri allora puntata numero uno con Mauro Grimoldi e le sue dieci lezioni siamo soltanto alla prima benissimo ne avremo altre nuove allora ci dobbiamo rivedere arrivederci ciao a tutti grazie a te Alessi quanto c'è di giallo nella vostra vita? e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? scopritelo con noi ha risolto giallo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti